I sugetti sono molto diversi gli uns e gli altri, ma tutti molto interessanti. Il rigore dei studi in scuola di giornalismo anche mi interessa bene, le prime oeuvre, e c'è due oggi, e l'avvio che la qualità dei film è molto alto. Sono le mie radici il faiuto, perché qui era la casa di mia nonna e mi ricordo di spostamenti continui quando ero bambina di mio papà che per lavoro si spostava da un luogo all'altro e si tornava sempre in un solo punto, il monte faiuto. Quindi per me è il luogo del ritorno, è il luogo dell'empatia, è il luogo del movimento, della passione, di tutti i temi che abbiamo fatto fino ad adesso e degli orizzonti ovviamente. L'Italia è come sempre un laboratorio di giovani cineasti molto interessanti ci sono poche scuole di cinema, però ci sono molti cineasti che nascono di una maniera totalmente indipendente, ci sono piccoli workshop in varie città che insegnano molte volte a fare cinema, soprattutto cinema documentario e molti di questi giovani hanno una grossa conoscenza internazionale, viaggiano, seguono altri festival in Europa e nel mondo e si fanno le ossa attraverso questa conoscenza del cinema internazionale. Io trovo che tutti i film chiusi molto bene e in particolare sono in accordo con la tematica chiusa, che è l'orizzonti, e io penso che avremo difficoltà a fare il nostro scopo, perché in grosso sono tutti eccellenti. Qua c'è in qualche modo un fresco per la mente, perché si possono vedere dei film veramente magnifici, che penso in pochissimi altri posti d'Italia si possono vedere, perché sono il frutto di una selezione appunto su film che vengono da tutto il mondo, film che sono tutti con i sottotitoli in italiano, grazie al lavoro di quattro traduttori che hanno fatto tutto questo lavoro di sottotitoli in italiano, in modo che tutti possano comunque cogliere il cuore e il significato di ogni film. Il faiito per me è una scoperta, io sono stato 25 anni fa e veni a trovare appunto gli animatori di questo festival Turi e Natali e sono tornato con molto piacere, perché qui c'è una magia particolare, siamo poco distanti dal mare, si sente l'aria marina, però nel frattempo c'è la bellezza della montagna, l'incanto della natura, il verde, il fresco, che in questo periodo di agosto non fa male, insomma un po' di fresco. Venite, ma non soltanto perché fa caldo, venite per aprirvi la mente verso nuovi orizzonti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!